I ragazzi dell'ITIS di Piedimonte Matese chiedono senza mezzi termini un intervento sulla sicurezza da parte della provincia di Caserta perché il maltempo di queste ultime ore ha ulteriormente messo a dura prova la struttura scolastica, dopo l'attuale occupazione preannunciano anche una manifestazione di protesta, mai più vittime figlie dell'indifferenza da parte delle istituzioni ci hanno detto i ragazzi che noi abbiamo incontrato per saperne di più. Allora quali sono i motivi che avete occupato l'istituto e da quanto? Allora il motivo principale per l'occupazione dell'istituto è praticamente la faticenza della struttura in quanto ci sono delle infiltrazioni d'acqua che non ci permettono più il regolare corso degli studi. Il problema è che queste infiltrazioni sono praticamente sul 90% della superficie degli edifici che comprendono la struttura e c'è stata la creazione di stratificazioni di muffe che liberandosi comunque nell'aria la rendono proprio irrespirabile in quanto l'odore è molto forte. E cosa va detto? Voi avete parlato con chi inizialmente? Allora inizialmente abbiamo esposto le nostre problematiche ai docenti e al dirigente scolastico che diciamo si è subito messo all'opera per risolvere le problematiche però diciamo che il problema è che questi disagi vanno avanti da molti e molti anni e questo perché la provincia praticamente non ha accolto tutte le richieste che sono state fatte da parte nostra Cosa è stato fatto alla provincia? Avete scritto voi? Avete scritto il preside? Allora ci sono state delle richieste scritte sia da parte nostra sia da parte del dirigente però sono state tutte ignorate, abbiamo inviato anche le foto contenenti i propri dettagli della situazione che c'è oggi nella nostra scuola e purtroppo non abbiamo avuto risposta o meglio abbiamo avuto qualche risposta ma non esaustiva, erano delle risposte molto molto evasive. Quando ne siete interessati, diciamo in quella parte della struttura che ha queste problematiche? Allora, circa il 50% degli alunni fanno lezione nelle aule dove praticamente non potrebbe svolgersi una lezione perché dovrebbero essere dichiarate inagibili in quanto c'è la muffa, ci sono pezzi di intonaco che cadono Quindi diciamo c'è anche pericolosità per tutti voi, non solo per quanto riguarda il problema igienico ma anche per la pericolosità, no? Sì, allora il problema è che essendo il marciume nel solaio, da un momento all'altro con un sisma oppure qualche altro fenomeno un po' più violento potrebbe crollare il tutto e noi naturalmente stiamo cercando di evitare tutto ciò. Ecco, vogliamo mandare un messaggio alla provincia, potersi che il dottore Zinzi, che è il presidente della provincia alla fine non si sa mai, può vedere questo video e magari fare qualcosa. Allora, inviare un messaggio io dico solamente di affrettarsi a risolvere queste problematiche perché potrebbe costare l'incolumità di molte persone, tra cui i ragazzi, la maggior parte ragazzi ma non solo, l'incolumità dei professori e di tutto il personale addetto alla scuola e messo a repentaglio. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per italianews24.net Grazie a tutti!